Allora, diciamo che questa domanda dovrebbe essere più rivolta al Comune che ovviamente ha in mano la struttura dal punto di vista delle grandi ristrutturazioni. È ovvio che avendo io in mano, avremo in mano, perché dobbiamo firmarci una convenzione, l'ordinaria. Io nel frattempo, pur non avendo la proprietà di questo stadio dal punto di vista della convenzione, ho rinnovato i locali importanti, quindi a partire dai nuovi pavimenti su cui state posando i vostri piedi, fino ovviamente a una riprendizzazione dei portali di entrata per comunque permettere anche ai tifosi di poter comprendere che c'è una nuova gestione, fino a poi arrivare a ricostruire completamente l'hospitality, dando un hospitality di livello di livello molto più importante dei categori in cui giochiamo. Abbiamo ristrutturato anche l'entrata e abbiamo rilanciato uno store con uno studio televisivo anche presente. Abbiamo quindi bonificato tantissime aree, tagliando anche il verde, facendo il più possibile quello che poi era, diciamo, nei nostri limiti quella che era l'operatività di questo luogo. È ovvio che mi premerà sempre di più cercare di sensibilizzare l'amministrazione comunale che è già, come dire, molto sensibile a questa causa. Si è strappato un telone durante il weekend scorso sopra la curva nord. Io e il sindaco Antonio De Caro siamo sentiti immediatamente al telefono proprio per cercare di capire come risolvere, anche come non prendere rischi di fronte a queste problematiche. È ovvio che poi c'è anche un vincolo di Renzo Piano che può rallentare un po' certi processi, quindi anche lì ci sono tantissime cose da dover affrontare. Non c'è dubbio che l'amministrazione comunale è proattiva, quindi di questo sono molto contento perché nel mio progetto futuro per i prossimi anni ci sarà appunto la riorganizzazione delle aree dello stadio e anche, adesso stiamo lavorando sul progetto di un museo, quindi anche di ricostruire tutta una parte qui dentro creando una storia del Bari bella e importante, sia per il turismo estero che viene in questa città che per le scuole, per chiunque vorrà venire a ricordare la storia del Bari. Mi piacerebbe ricostruire una sports clinic, ieri a Roma al Football Summit che c'è stato, al Social Football Summit romano dove comunque abbiamo avuto anche il pregio di poter rappresentare questa squadra al cospetto di tanti altri brand importanti come l'Inter, la Roma, la Juve, il Napoli e squadre internazionali, abbiamo rappresentato quello che è lo sviluppo e l'evoluzione di questo brand, quindi per ritornare alla domanda sicuramente sarà nostra premura valorizzare il più possibile ogni singolo aspetto di questo stadio. Abbiamo cominciato a dialogare proprio nel momento in cui il Bari stava acquistando tutti i giocatori che poi avete visto, quindi da quel punto di vista il Bari ha investito, ha stra investito per la Serie C, quindi non è che abbiamo non mantenuto le nostre promesse da quel punto di vista, le altre promesse sono state la continua costruzione di valorizzazione del brand, quindi a partire dal lancio di uno store allo stadio, a partire dal restyling totale dell'Hospitality, mi ripeto delle cose di cui ho detto prima, però il Bari continua a costruire intorno a sé, quindi trovando partner, trovando continuamente una valorizzazione stessa, quindi chi sale a bordo, chi arriva man mano arriverà in una situazione sempre più costruita. Sei mesi fa eravamo di nuovo qui e vi parlavo di tante operazioni, adesso finalmente man mano ogni mese ve ne sto svelando una o un paio, quindi diciamo che non siamo seduti e fermi o soltanto preoccupati del risultato sportivo, ma siamo preoccupati anche del risultato della conduzione aziendale, che è importante perché il brand deve costruirsi sia di luce propria che di risultati sportivi, però anche essere rappresentato da una solidità rappresentativa è importante, poi è ovvio che i risultati sono importanti, la partita di domenica per me ci sto pensando tutte le notti, perché è ovvio che non si possono perdere punti in questo momento del campionato, il mister finora ha avuto 10 risultati utili consecutivi, quindi noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, dobbiamo essere concentrati, abbiamo un gruppo di calciatori che sta tirando fuori le unghie, abbiamo cambiato modulo, abbiamo attraversato tante avventure, non è facile, quindi sicuramente è un campionato al cardiopalma e io dico ben venga, nel senso che poi deve essere un film d'avventura perché se fosse noioso ci sarebbe molto meno seguito, quindi spero domenica di vedere tanti tifosi come lo dico sempre, ma perché è troppo fondamentale, siamo in un momento in cui bisogna dare il sostegno massimo a questa squadra. Non è una cosa che amo dire, nel senso che la mia famiglia è comunque conosciuta e quindi è ovvio che nel nostro standing è quello di investire, se noi abbiamo promesso di costruire questa scesa noi dobbiamo mettere mano al portafoglio e l'abbiamo fatto, non lo devo dimostrare a nessuno.